Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Shiva in questo nuovo video di RUNKIND Bene andiamo pure qua a vedere che cosa possiamo fare, lo rallentiamo Che importanza ha qualche morde in più Vinciamo grazie al critico e alla velocità E quindi insomma si Esatto Cioè L'abbiamo devastato, cioè è nato un po' Quasi perfetto Mi sei piaccionato tanto Cioè questa giocata è stata fantastica Io non ho niente da aggiungere Ok Perfetto Ah si sono diventato invisibile Quindi va meglio Sì ma non lo so se lo userò Quel bonus Vedete c'è alla fine Oh non ho tolto abbastanza Questo è il costo della follia Vittoria 108 Pochissimo per carità Però tanto abbiamo livellato Adesso è molto più forti Bisogna dirlo Quando passiamo di livello Si vede la differenza Ok Penso che sarà una battaglia molto cruenta Quattro Però non sono Impareranno Oppure moriranno Troppo facile Voglio sentirvi implorare Perfetto E' così che si fa Prezi Facciamo un posto Facciamo un sacco da fan Io non mi rialzerei Le lame sono assetate Veloce Come un lampo Mi preparo Sono tanti Devi distruggerli Perfetto Quasi graffiato Tagliente Davvero niente male Sguardati Direi che ci stiamo cavando Abbastanza bene Le zampette Era quello che meritavano Come la prima volta Ma Non sembra troppo Punto Come scontro Quindi Ce la facciamo bene La verità è giunta Devi distruggerli Perfetto Io mi stavo Soltanto riscaldando Andata più che bene Spero si dia Almeno 500 Ma Non 350 Però c'è altro Molti soldi Alla fine 50 test Non è tanto Lo so Però Meglio di un dito In occhio Ok Adesso Toggo tutti di mezzo Perché non si sa mai E quindi siamo a posto Vai Parecchia roba Non riesco a dire Questo Dov'è Questo me l'ha dato No 24 Oddio 24 No Anche se è raro Vabbè Volevo vedere Questo 24 Porca vaca Quanta rapidità Io direi che ha vinto L'Oscar Questo Questo coso Ok Eh Questo no Questo dopo Vediamo Voglio vedere Effettiva Mount No 22 24 24 Lui a posto 24 Le pistole Se le abbiamo Questo qui 24 Critico Tanto Io direi che tu hai vinto L'Oscar E dopo ti posso anche potenziare E siamo a posto Potere attacco Un'infinità Perde rapidità Ma ottiene una vagonata Di danno in più Lei così Io glielo metterei Come si fa a non metterglielo Dai Questo no Perché è esagerato Anche se qui 350 di potere di attacco È veramente devastante Ma Per adesso no Sto cercando di aggiustarli un po' tutti Ragazzi Perché se no È un casino Va bene Poi Questa purtroppo Più di quella Non ci dà Per il momento Questa siamo a posto Questo siamo a posto Questo Posso guardarci Ma penso di no E il Trinket Forse qualcosa di meglio Possiamo anche trovare Solo critico Rapidità Per adesso È meglio il nostro Va bene Io sono comunque contento Non è che sono Cioè Mi dà fastidio qualcosa Sono abbastanza contento E soddisfatto Quando useremo la Capitanessa Avremo di che sfamarci Nel senso Non è che ce la mangiamo Ma che Avranno pane per loro denti Insomma dai Non so cosa ho detto Avremo una serie lo stesso Andiamo un po' E quindi siamo arrivati Qua c'è qualcosa Che io voglio riprendere Un nome in Cudine Ronda di energia Ristitifici abilità del vento Vai Se hai la turbina del vento Che ha liberato In Cudine è attiva È pronta all'uso Quindi la posso usare Non ho capito un cazzo Di quello che ho fatto Non me la fa usare Vabbè Può darsi che Adesso riposiamo un attico Che è meglio Così salva Ci rigeneriamo Non che avessimo bisogno Salve un atto Diacolo Braum ha notato Che lo stai fissando Ti serve qualcosa? Vuoi sapere A cosa pensavo? Magari Non davanti a tutti Maialona Rilassati Braum Stavo solo pensando Alle storie Delle tue terre Troll Draghi Montagne di ghiaccio E neve Prima di conoscerti Erano Solo storie Sognavo di navigare Verso terre lontane Per vedere Cosa c'è là fuori Ma Bilgewater È diventata Tutto il mio mondo Allora Devi visitare Il Freljord Braum Sarà la tua guida Vivremo Mille avventure Facci piano Ragazzone Un'avventura per volta E vediamo che questa Lioniano Maneggi la spada Con efficacia Da un assassino professionista È un complimento Gli assassini Si riconoscono a vicenda Immagino Che sia vero Il mio maestro Era il più grande Degli spadaccini Io sono solo un'ombra Di ciò che era Non c'è niente di male Nell'essere un'ombra Ha detto lui Ci sono dei vantaggi Nel non essere visti Il tuo maestro Il tuo maestro è morto Dunque Sì Alcuni credono Per mano mia E sei in cerca Di vendetta Cosa ti fa pensare Che non sia stato io Intuito Beh Se non altro Lo squartatore Del molo Insanguinato Mi crede Sì Pike Mi sbagliavo Sul tuo conto Ci siamo sbagliati tutti Sei stato Un prezioso alleato C'è bisogno di voi C'è bisogno di tutti noi Non c'era molta fiducia Quando ti sei unito a noi Hai dimostrato di essere degno Della causa Parli come la sacerdotessa Non degno come lo intende lei Nel senso guerriero Lo ammetto Normalmente non faccio cose simili Potrebbe fare per te Non mi hai mai visto al lavoro Forse un giorno succederà No, grazie Preferisco il nostro rapporto attuale D'accordo Ok Una cosa piacevole insomma Allora dove dobbiamo andare Beh ovviamente qua Perché c'è anche un Diacolo Insomma da leggere Mi cazzo schiamola Eh insomma c'è una Questi Cazzi Io Non dovrei essere qui C'è qualcosa di sbagliato Non sono le correnti Sono I miei fallimenti Yasuo Il nostro potere È il movimento Tu sei fermo Bloccato dal terrore Sei indegno Del nostro potere Il vento è al mio comando Il vento ha pietà di te Apatia ed esitazione Sono i suoi nemici Tu chi sei? Chiunque tu vuoi che io sia Chiunque tu tema Io lo sono Perfetto Non di nuovo No Fratello Ione Tu non puoi capire È così Non capisco Wow Qualcuno mi può spiegare Cosa succede? Questo luogo Si nutre di paura Il vento soffia Tra l'ordito del tempo Qualcuno che non sia Un maledetto filosofo? Il passato di Yasuo L'ha raggiunto Di nuovo Fantastico Faccio proprio Uno schizzo di vita Ma porca vacca Come cazzo faccio adesso? È la tua fine È la fine Mi assicura Perché Non gli ho fatto un cazzo Gli ho fatto critico Ho visto le volte infiggendo Sto a me però Oh Palà che poca miserica Ma lo farei di nuovo Io adesso Non è che voglio essere Sempre scasciamolo di turno Però A serio A serio A serio A serio A salà Fa fa Salà Fa sa Fa Tac Ebbè è stato facile Dai Potrebbe essere Salve Lei mi piace molto Sa Il vento Sembra Salve Lei mi piace molto Mi dà un senso di piacere Insomma Dentro Devo vedere Falla finita Come hai già fatto prima No Non questa volta Io accetto i miei errori E tutti quelli degli altri Allora avanza a testa alta Verso il tuo destino Quindi hai sconfitto le sue paure Sui timori Le sue ombre Non è la prima volta che scegli Vero? È così Ho affrontato mio fratello altre volte Lasciando che rabbia e confusioni agissero Portando il rimpianto Adesso Sei calmo Beh È stato Intenso Torniamo alla nave L'equipaggio avrà finito di sistemarla Yasuo Sono felice Che tu abbia potuto affrontare il tuo passato Sono in debito con te Se non fosse per questo viaggio Sarei ancora perduto E solo Abbiamo fatto molta strada Ma lo scontro con il re in rovina È appena iniziato A prescindere da ciò che succederà Non ti lascerò finché non avrai trovato ciò che cerchi Hai la mia parola Con Ione Ho una vita sola di rimpianti dietro di me Tu molte E tutte insieme Ho imparato che la cosa che conta è andare avanti Ma una domanda rimane Come facciamo Senza mettere a repentaglio la missione? Pensavo di dover conoscere il mio passato Per conoscere me stessa Ma ora mi sembra così poco importante Tutto quello che so È che Bilgewater Non può soffrire lo stesso destino Delle isole benedette Insieme Sono sicuro che lo impediremo Sì Insieme C'è del tenero tra di loro Ma Una canoa? Cioè una canoa insomma Una barchetta La nave è pronta Se navighiamo veloci e senza altri imprevisti Possiamo arrivare a Bilgewater Prima del re in rovina Vai strada capitano Così sì che si ragiona Meno malo Allora vediamo un po' questo equipaggio a mount Questo Lei mi piace parecchio sa Io la metterei molto volentieri al suo posto Perché cavolo andiamo Ma io sono Perdo un po' di potere d'attacco Però Questa può essere anche infonduzionata Di potere inalato Io glielo metterò E sciù Mentre mi scusi sa Devo metterle un po' di rapidità O un po' di impeto Lo fa l'impedo Per di conservare la prossima battaglia Fino al massimo di 10 sovracavi Con l'intimità C'erebbe buona C'erebbe tanto buona Questo cosa fa? Aumenti di presente la quantità di pie Ottenuti in battaglia Che sarebbe buono Agilite Aumenti l'indice di rapidità E l'indice di evasione Ma Eh Non lo so Però sarebbe bello anche questo Vediamo un po' Se c'è qualcosa Che veramente mi dà Aumenta l'evasione 940 Aumenta la resistenza E il potere d'attacco 19 C'è qualcosa che mi aumenti A dismisura Il potere di attacco Che spacco Al culo e canarini Insomma sì Perché mi serve una roba Quando subisci i danni Di creare uno scudo Che assopre 53 di danno E anche questo non è male Eh Aumenta tutte le difese Di 28 Non sapete che Altra mente Combattimento Combattimento C'è già l'arche Di cosa 17 di danni Puri gli attacchi Io aumento Di rapidità Di rapidità Di 240 Ma celerità 2 Di rapidità Scusate Questo cosa fa Ma io Andrei su celerità 2 Perché Ah perché qui va su Ho capito Quindi ci dovrebbe essere Anche celerità Ah io dicevo che sotto Ma porca miseria Ok Abbiamo tanta roba Di 3 Io farei Aumento la resistenza Di 300 Questo Mi piace tanto Ovviamente non ho un cazzo Da metterci Perché non ho tutta la roba E quindi niente Ah a livello 3 Non ce la facciamo Ragazzi Solo questo Ok Infine di 29 di danni Puri gli attacchi Non faccio un cazzo Vediamo Assassino 2 Che Già va meglio Proviamo a fare questa Poi farò Assassino 3 Quando posso Perché già è meglio Allora Lui Che mi piace tanto Quindi facciamo 3 Facciamo 5 Va E quindi Facciamo Basta Facciamo un cazzo Perché Facciamo così Facciamo così 20 Questo ce ne abbiamo tante Facciamo 10 Ma facciamo anche di più Ci scatti Ne abbiamo un sacco Ok Mi piace No no Sono contento Che il critico Così Facendo 988 Ma È andato di traverso il mondo Sono contento Allora dove devo andare A fare Cosa Scusi te Adesso mi vende qualcosa Di potentissimo Ho fatto una figura di merda Perché tanto sarà così No Per il momento 24 Tutto a posto Poi Questo qua Come se non lo sapessi No però va bene Quello che ho Dai Prendiamoci in giro Vediamo un po' Niente di che Sto guardando Però Non mi soddisfa Così tanto Come penso E credo che sia Giusto che sia Sì 252 Tanto Però Insomma Proviamo A lasciare così Il mondo Il mondo com'è So che ci sto pensando Però Allora Questo qui Mi interessava In modo particolare O perché Ripetino al 100% E non sarebbe malo Però Ne prenderei uno Sono solito Coglione Vabbè Poi queste Sono cose Di incantamento Queste sono 25 Non mi interessa Oddio Si mi interesserebbe Però insomma Penso che Perdi il mondo Così com'è Sta Possiamo andare Finalmente All'isola Del drago Dell'ira Penso sia Quello Qui il posto Dove Dobbiamo andare Speriamo bene Ho fatto una figura Di merda Lo so Sono sempre Il solito Sono andato Allo stesso Posto Di prima Ma io Ho lasciato Una cosa Qua Meno male Che sono venuto Perché qua Abbiamo lasciato Una cosa Qua Scusate A un certo punto Uno lo chiede Ecco qua Ok Eh no Questo è importante Perché dopo Ci dà la possibilità Di salire Facciamo che ci salutiamo Qua così Capisco dove andare Ragazzi Quindi come solito Mi invito Anche il commento Se piacere Fammi sapere Cosa è pensato Questo è un saluto Siva Ciao ciao